Il progetto è nato da una collaborazione che dura da tantissimi anni con le due attrici che vedrete nel film in concorso. Abbiamo frequentato insieme la scuola di cinema e così abbiamo iniziato a collaborare su una serie di piccoli film e cortometraggi, dopodiché ci siamo dedicati al lungometraggio. Con dieci anni di sperimentazione cinematografica alle spalle, ecco il risultato del nostro lavoro. Il nostro film va ad esplorare quelli che sono dei rapporti di amicizia molto passionali ma compromessi da rapporti di potere. Devo dire che i cineasti che sono stati un punto di riferimento per me sono davvero molto numerosi ed alcuni di questi sono stati anche di grande ispirazione per il film che ho realizzato, Raph. Forse più di tutti, fonte di ispirazione per Raph è stato Léo Scarax, un cineasta francese da cui ho tratto un po' di ispirazione per quello che è il suo stile giocoso e il suo modo di dirigere gli attori. E mi piace soprattutto il suo approccio al cinema. Ciao Torino Film Festival! Ciao Torino Film Festival!